Promozione della sostenibilità energetica, qualità dei dati per sostenere l'azione a livello locale. Questo è il titolo dell'incontro che è stato ospitato dalla città metropolitana di Torino nella sua sede di Corso Inghilterra. Si tratta di un evento internazionale nell'ambito dei patto dei sindaci e del progetto europeo Data for Action, nel corso del quale una serie di istituzioni e ricercatori hanno portato in luce alcuni esempi di successo relativi al supporto dell'azione locale per la promozione della sostenibilità energetica. La città metropolitana vuole sottolineare il suo ruolo fondamentale rispetto allo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. Per dare gambe a questa funzione, città metropolitana eredita un'esperienza che la provincia di Torino ha coltivato e maturato negli anni passati, un'esperienza di soggettività europea, un'esperienza di partecipazione ai progetti europei. Questa mattina parliamo di sviluppo sostenibile, parliamo di energie rinnovabili, parliamo di economia che ruota intorno al verde, ruota intorno a dei concetti e a delle politiche che città metropolitana vuole portare avanti. Migliaia di amministrazioni sono infatti coinvolti in Europa e in Italia attraverso iniziative come quella del patto dei sindaci, nella pianificazione energetica sostenibile di lungo termine per cercare di diminuire le emissioni di CO2 e ridurre i consumi energetici. L'obiettivo del progetto Data Fusion è quello di migliorare lo scambio dei dati energetici per una pianificazione energetica sostenibile a livello locale o regionale. Questi modelli di collaborazione tra i soggetti pubblici e fornitori dei dati verranno realizzati grazie ad accordi bilaterali o lo sviluppo di 12 data center o gli osservatori a livello regionale. In questo quadro la raccolta di dati e la loro qualità rappresentano spesso un ostacolo per avviare un percorso di azione efficace e convincente. Dalle statistiche effettuate sul patto dei sindaci abbiamo rilevato che la maggioranza dei nostri firmatari sono piccole e medie città, città con meno di 50.000 abitanti e spesso queste città hanno bisogno di dati, hanno bisogno di supporto e di metodologie per la redazione dei loro piani energetici. Perciò progetti come Data for Actions sono ottimi strumenti per poter supportare i nostri firmatari nella redazione dei loro piani.